Una fucina di talenti che spesso sono pronti a tingersi d'azzurro, è un momento d'oro, è il caso di dirlo, per lo sport siciliano che dopo le medaglie continentali dell'atletica con Melluzzo, Mangione e Meli nelle staffette agli europei di Roma, lo scudetto alla meta Catania nel futsal e la Coppa Italia di Beach Soccer, che ieri ha visto in finale due formazioni catanesi, può celebrare adesso un altro successo, a portarlo in dote è l'atleta più giovane di tutti perché Anastasia Inzabella ha appena 14 anni, che sembrerebbero pochi per mettersi addosso l'azzurro e parteciperà a una kermesse giovanile, ma che sono bastati alla canonista catanese per conquistare loro nel K1-1000 agli europei di Bratislava e Slovacchia, a impreziosire il successo di Anastasia, c'è un dato, di certo non secondario, la giovane atleta catanese che ha iniziato il suo percorso appena 4 anni fa nel post-Covid, si è imposta nella competizione Under-18, gareggiando con atlete in media più grandi di almeno 3 anni. Dopo il secondo posto nella semifinale dietro l'ungherese Bianca Opfer, la Inzabella è ne stata la marcia superiore nella sfida di finale, dominando la prova conclusa in 4 minuti, 7 secondi e 393 centesimi proprio davanti alla rivale Maggiara e alla polacca Julia Kot, giunta terza. Ma non solo, l'atleta dello Yomar Club Catania, allenata dal padre Daniele, nonché vicepresidente federale della Federcanoa nazionale, ha poi sfiorato il podio ieri nella finale del K1-500, nella quale è arrivata al quinto posto ma pochi centesimi dal bronzo. Un weekend da Leonessa che le è valso la convocazione ai mondiali junior in programma in Bulgaria a metà luglio e che la vedranno in acqua proprio nel K1-500, seconda tappa di un'estate che potrebbe essere davvero indimenticabile per una delle giovani speranze della canoa azzurra in chiave futura.